I tic, i tic, oggi è ghietto in macchina, ma da qui, ma da guarda, ma da guarda questa mano 4.500 erano 2.011 1.300 euro, 10 euro Anno 2.011, 1.200 pezzini, 3.000 euro Forte fiesta, anno 2.016, 1.400, 10 euro, 5.6 Oh, dove è un infarto? Ecco a noi, con Bettina, con Bettina 15.800 euro, allora, 2.018 Ma io riscrivi d'angelo pure per casa da calma, eh? Giulietta! 7.950, anno 2.017 Anno 2.020, 9.950 E sto regalando in macchina 2.016, 4.500 euro Allora, calma te ne puoi 2.015, 6.300 euro I piccioni puoi fare più i video Anno 2.012, DSL Siediolini riscattabili, voglio Non ho credito di questa parte, dalle camere posteriore, anteriore 3.700 euro 3.700 euro, 1.700 euro Questo è bello per lavoro, vedi? 3.000 euro, 7 posti C4, che è difficile, è improbabile 3.3, 3.3 Maggiolino Mario Merola A Bonano, ci piace passare 1.600 euro Fiatto Fiorino O fontanieri puoi fare 1.600 euro Voi che pulite qui a me Sono come popò O non sono come popò A voi mi piace di mangiare la caramella e l'acqua E mangiare la caramella e l'acqua Con tutto il rucchio Che ora Buono Grazie a tutti.